Se si riesce a dimostrare che il furto è stato l'ammanco e è da debitarsi a una carenza di sicurezza da parte della banca, del resto un'evenienza del genere è già contemplata per esempio dagli istituti di monetica che mettono carte di credito e strumenti di pagamento di questo tipo. Occorre però dimostrare che si è verificata una falla, si è verificato un furto delle nostre credenziali di accesso e non una risposta ad una mail di phishing magari sperando di aver vinto qualche milionaria lotteria in qualche sperduto paese dell'America Latina, come talvolta avviene. Oppure fornire dati relativi alla propria carta di credito al proprio conto in ambienti non protetti, non recanti il protocollo HTTPS o non recanti il lucchetto.